Sperialmente quei supermercati modernissimi, eccezionali, come architetto... Centri commerciali, insomma, supermercati... Una becca, raccolti in uno spazio piccolissimo, decine di ambienti alti oltre 50-60 metri, eccetera, con addirittura uno spazio tra loro, discorso, uno o due metri. Quindi con una densità alta. Come? Con un'alta densità. È chiaro. Anche le ville, molto vicine una all'altra. Poi nella zona residenziale. Ah, grazie. Allora, noi c'hanno uno spazio in oro nella... Però poi, seppure che Dubai, quelle sono le Mirabiana, che è piccolo, che ne sappiamo? Stanno ingrandendo la marina. Sì, hanno fatto quelle nuove e palme, no? Allora, addirittura, sono un comando terra verso il mare. Potevano fare delle cose meravigliose. Ma noi invece ci sono ristenti in questi spazi. E questo è l'unica peccatiglio che ho trovato di questo Dubai. Perché poi gli spazi interni invece sono spazi grandi? Sì, è così. Sono in ordine. In ordine, eh. Sì, sì. Grazie. Grazie.